E' mercoledì mattina, un'ora come sempre per dare spazio a tutte le notizie in arrivo dall'Italia e dall'estero, tanti anche oggi i temi, come sempre poi andremo ad aprire anche la nostra finestra sulla Lombardia e tra pochissimo ci collegheremo con l'Odi. Subito però, lo dicevamo, uno sguardo alle notizie in apertura in questo momento, c'è una notizia che è arrivata proprio in questi minuti e riguarda la salute del Papa, il Pontefice andrà al Gemelli, l'apertura in questo momento dell'Ansa ha previsto un ricovero, a quanto apprende l'Ansa per Bergoglio è previsto un intervento con un ricovero di almeno due giorni, la notizia data in questo momento come ultima ora proprio anche da Repubblica, Papa al Gemelli, previsto un ricovero, dovrebbe essere sottoposto a un intervento. Allora già c'era stato un passaggio del Pontefice in ospedale nelle scorse ore, adesso si parla appunto di un ricovero. Andiamo a vedere se ci sono già ulteriori dettagli. Papa Francesco andrà questa mattina al Cemi, struttura geriatrica del Policlinico Gemelli, dove è già stato ieri. A quanto apprende l'Ansa per Bergoglio è previsto un intervento con un ricovero di almeno due giorni. Papa Francesco al termine dell'udienza generale ha detto in una comunicazione ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni si è recato presso il Policlinico Universitario Gemelli, dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L'operazione concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi subocclusive, ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La decenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post-operatorio e la piena ripresa funzionale. Allora questi sono proprio gli aggiornamenti in questo momento dall'Ansa e appunto lo dicevamo anche Repubblica rilancia la notizia del ricovero previsto per Papa Francesco. Tanti poi ovviamente invece anche gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina dopo che appunto è saltata ieri la diga di Kakovka a rischio 42 mila persone. Zelensky parla di un'enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero. Mosca invece parla di 2700 case allagate, 1300 persone evacuate, dichiarato lo stato di emergenza. L'inondazione colpisce anche la regione di Mikolaiv. Duro braccio di ferro al palazzo di vetro dell'ONU tra Ucraina e Russia. L'intelligence americana tende a ritenere la Russia responsabile del disastro. Questi sono quindi gli aggiornamenti che andiamo a vedere anche sul Corriere perché ovviamente si parla anche della vicenda del conflitto in Ucraina, degli sviluppi legati soprattutto alla distruzione della diga. Si parla di inondazioni e morti e Zelensky appunto che fa riferimento a una enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero. Andiamo a vedere qualche dettaglio appunto allora anche dal Corriere. Guerra Ucraina-Russia, le notizie sulla guerra in arrivo proprio in tempo reale. La distruzione della diga è al centro di un reciproco scambio di accuse tra Kiev e Mosca. Secondo gli ucraini sarebbero stati i russi a distruggere per rallentare l'avanzata delle truppe di Kiev e per distogliere l'attenzione da altri fronti della guerra. Secondo i russi invece sarebbero stati gli ucraini a far saltare la diga. La comunità internazionale segue con apprensione gli sviluppi della situazione. Le conseguenze della distruzione della diga, secondo Zelensky, potrebbero essere catastrofiche. E Scholz, quindi andiamo in Germania, parla di un attacco come quello alla diga. Ce lo aspettavamo da tempo. Parlerò con Putin. Secondo l'Istituto per gli Studi della Guerra, è molto probabile che i russi siano stati responsabili della distruzione intenzionale della diga di Kakovka. Nel bollettino giornaliero del think tank americano si legge che non possiamo fornire una valutazione definitiva sulla responsabilità dell'incidente del 6 giugno, ma le prove, i ragionamenti e la retorica suggeriscono che i russi abbiano deliberatamente danneggiato la diga. Già il 21 ottobre 2022 era stato notato che i russi avevano un chiaro interesse nell'allagare la parte bassa del fiume Dnipro, nonostante i danni alle loro posizioni difensive, a differenza degli ucraini. Gli ucraini, infatti, non avrebbero motivo di far saltare una diga con il rischio di allagare 80 centri abitati, mentre la Russia potrebbe utilizzare l'inondazione per ampliare il fiume e complicare la controoffensiva ucraina. Nonostante i russi affermino che i danni alla diga mettano a rischio l'approvvigionamento idrico della Crimea, l'Istituto della Guerra appunto sottolinea che la penisola è riuscita a sopravvivere senza l'acqua del fiume sin dalla sua occupazione russa nel 2014 e fino all'inizio dell'invasione nel 2022. Infine c'è la possibilità che il crollo della diga sia stato causato da danni strutturali preesistenti, ma la notizia di esplosioni prima del cedimento non sono coerenti con questa ipotesi. Intanto appunto Zelensky dice che i russi non aiutano la gente colpita dall'inondazione. Dopo l'esplosione della diga i nostri servizi stanno aiutando tutte le persone coinvolte, ma possiamo intervenire solo sul territorio controllato dall'Ucraina. Nella parte occupata da Mosca i russi non stanno nemmeno cercando di aiutare le persone, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Zelensky. Questo dimostra ancora una volta il cinismo con cui la Russia tratta le persone di cui ha conquistato la terra e ciò che la Russia realmente porta all'Europa e al mondo. I terroristi russi hanno dimostrato ancora una volta di essere una minaccia per tutto ciò che è vivo. Dure le accuse contro Mosca, la distruzione di uno dei più grandi bacini idrici dell'Ucraina è assolutamente deliberata. Almeno 100.000 persone vivevano in questa area prima dell'invasione russa. Decine di migliaia sono ancora lì, centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza il normale accesso all'acqua potabile, ha scritto Zelensky su Telegram. Invece Medvedev dice che Zelensky sarà appeso come il duce in piazzale Loreto. Zelensky farà la fine del duce e la sua cricca fascista appesi per i piedi in piazzale Loreto a Milano, lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev in un post sui social. Medvedev ha definito Zelensky tossicodipendente che sarà secondo lui appeso con i suoi scagnozzi per tradimento della Repubblica di Ucraina ed è la causa. Secondo Medvedev la delusione dei suoi padroni può costare a Zelensky e compagni non solo posti ma la vita stessa. Per questo secondo l'ex presidente russo Medvedev il regime di Kiev ha solo una via d'uscita, andare fino in fondo mandando a morte migliaia di immobilitati. Ma in questo caso non dobbiamo sottovalutare il nemico, il nemico e il mondo occidentale che lo sostiene sono pronti a tutto pur di cancellare il nostro paese dalla faccia della terra. Intanto andiamo a leggere aggiornamenti che arrivano anche dalla Cina, record di interscambio commerciale mensile con la Russia. L'interscambio commerciale tra Cina e Russia è salito a maggio ai massimi su base mensile dall'aggressione delle truppe di Mosca ai danni dell'Ucraina partita il 24 febbraio del 2022. Secondo i dati diffusi oggi dalle dogane cinesi, i flussi compressivi commerciali hanno toccato i 20 miliardi e mezzo di dollari lo scorso mese. Intanto l'intelligence della Gran Bretagna invece parla di probabili nuovi crolli alla diga e di ulteriori allagamenti, mentre Mosca parla di 2.700 case allagate dopo la distruzione della diga di Nova Kakovka. Zelensky dice che dagli alleati c'è un'offerta seria e potente di caccia F-16. Ancora si parla quindi di intervento militare, di conflitto bellico e ancora le primissime indicazioni di questa mattina con Kiev che parla di 42.000 persone a rischio dopo la distruzione della diga. Sono persone che sono a rischio di inondazione su entrambe le sponde del fiume Dnipro, la distruzione della diga di Nova Kakovka, lo hanno detto i funzionari ucraini citati dal Guardian. Il picco delle acque alluvionali è previsto per oggi. La previsione è arrivata dopo che il capo degli aiuti delle Nazioni Unite, Griffins, ha dichiarato martedì notte Consiglio di Sicurezza che la rottura della diga avrà conseguenze gravi e di vasta portata per migliaia di persone nell'Ucraina meridionale. Allora questi tutti gli aggiornamenti che arrivano proprio sul fronte del conflitto in Ucraina. Mentre lo vediamo in questo momento anche il Corriere ha un aggiornamento, la notizia degli ultimi minuti con l'annuncio che il Papa sarà ricoverato al Gemelli e sarà operato all'addome. Papa Francesco ricoverato al Gemelli sarà appunto operato. Andiamo a vedere anche le notizie date dal Corriere in questo momento. La diverticolite è tornata, però è sotto controllo, aveva detto a fine gennaio il Pontefice. Ed è per questo che dopo l'udienza generale Francesco è tornato oggi al Gemelli per essere operato nel pomeriggio come a luglio del 2021 quando fu ricoverato per una stenosi diverticolare e rimase in ospedale dieci giorni. Nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi in forma alla Santa Sede. L'operazione concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi subocclusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. I controlli fatti appunto ieri servivano a preparare l'operazione. L'adegenza durerà diversi giorni per permettere il normale decorso postoperatorio e la piena ripresa funzionale. Questi sono gli ultimissimi aggiornamenti proprio anche sulla salute del Pontefice. Andiamo però ad aprire anche il nostro collegamento, quindi subito la linea a Lodi a Silvia Legnani. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo alla Odin, Piazza Vittoria. Tanti temi oggi sul tavolo, siamo qui per parlarne con i cittadini. E allora diamo uno sguardo alle notizie della prima pagina del Corriere della Sera che ho qui con me in primo piano. La guerra in Ucraina, distrutta una diga ucraina, 40.000 in fuga dall'acqua come anticipavi tu anche dalla rassegna in studio. è stata distrutta la diga sul fiume Dinpro della zona di Kherson. Kiev attacca e parla di crimine di guerra della Russia. L'hanno fatto per impedirci l'offensiva, ma Mosca respinge le accuse. L'esplosione avrebbe provocato molti morti, fa sapere il consigliere per la sicurezza USA, John Kirby. Vi sono decine i paesi rimassi sott'acqua e più di 40.000 gli evacuati dall'aria inondata. Infatti le inondazioni hanno provocato altri morti. Kiev ai russi dice terroristi, Mosca invece nega. E poi lo scontro sul PNRR. Limiti alla Corte dei Conti. La legge entro giugno fiducia al governo, il sì della Camera, PD e Movimento 5 Stelle. Così si aprono conflitti con le toghe, ma il ministro Ciriani dice i controlli comunque ci saranno. Dunque andiamo ad approfondire controlli sul PNRR, sì alla fiducia, all'ostruzionismo di PD e 5 Stelle. La Camera ha votato la fiducia posta dal governo sul decreto PA, pubblica amministrazione, che limita il potere di controllo della Corte dei Conti sul PNRR. Ecco, lo andiamo a vedere, la vicenda, le finalità della Corte dei Conti, i tempi dei finanziamenti. Il Piano dell'Italia prevede i finanziamenti per 221 miliardi di euro. Le risorse legate al PNRR però vanno spese, secondo i programmi, entro il 2026. Ma ci sono già ritardi. E proprio i ritardi nella realizzazione dei progetti sono finiti al centro di relazioni diffuse dalla Corte dei Conti negli ultimi mesi e gli atti hanno sollevato polemiche politiche. Il governo sostiene così che i controlli del PNRR siano appannaggio della Commissione UE. Il governo ha poi varato il decreto legge pubblica amministrazione, in cui è appunto previsto lo stop al controllo concomitante della Corte dei Conti ai progetti legati al PNRR. Ieri alla Camera, al decreto legge, è passato con la fiducia. Torniamo alla prima pagina con il caso di Verona. L'inchiesta, 5 poliziotti arrestati, pestaggi e sevizie sui migranti, calci e umiliazioni ai senza tetto. Il giudice parla di tortura, calci, sprai urticanti, umiliazioni. Le vittime erano stranieri e senza tetto. 5 poliziotti a Verona sono accusati di tortura e ora gli agenti sono ai domiciliari. Indagati anche altri 10 poliziotti, le violenze avvenivano nell'acquario, ossia la stanza in cui i fermati vengono portati per l'identificazione e le perquisizioni sono state le telefonate intercettate di un poliziotto ad aprire l'inchiesta. E poi si ritorna sul caso dell'omicidio di Giulia. Voleva ucciderla da giorni, aveva acquistato il veleno. A pagina 20, veleno per topi all'uomo. Su internet le ricerche giorni prima del delitto. Alessandro Impagnatello, prima del delitto, ha cercato su internet gli effetti che fa il veleno per topi sugli esseri umani. È la nuova sconcertante scoperta in base alla quale i magistrati tornano a confermare che il trentenne avrebbe premeditato l'omicidio addirittura un paio di settimane prima della compagna. In casa ieri è stata sequestrata proprio una confezione di veleno per topi già notata dai carabinieri nel primo sopralluogo. Non è vero quindi, secondo gli inquirenti, che il barman ha deciso di uccidere Giulia la sera stessa, sabato sera, quando se l'è trovata davanti a rientro dall'incontro con l'amante. Ecco, lo ricordiamo, il giovane è in carcere per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione non consensuale di gravidanza. Proprio ieri, durante i rilievi nella casa in cui viveva la coppia, è stato trovato il ceppo di coltelli in cui il giovane ha indicato si trova l'arma del delitto e poi nei pressi della fermata del capolinea della metropolitana 3 Comasina sono stati trovati in un tombino i documenti della ragazza. Ora gli investigatori sono alla ricerca del cellulare che potrebbe portare nuovi elementi nelle indagini. Andiamo poi allo sport perché in primo piano c'è lo strappo di Maldini. Addio Amaro! Il Milan riparte senza la sua icona. Paolo chiedeva l'autonomia che Cardinale non vuole riconoscere. Metodi di lavoro diversi, niente separazione consensuale. Cardinale gli aveva offerto un ruolo di consulente. Le sue responsabilità ora ha un gruppo di lavoro integrato. E poi ancora la pagina della cronaca milanese che parla appunto dei ritardi nelle opere in vista delle Olimpiadi 2026. Ecco andiamo a vedere la prima pagina della cronaca milanese. Si parla della rivoluzione dei mercati coperti. Palazzo Marino annuncia una svolta per le 21 strutture perché Palazzo Marino vuole che diventino punti di riferimento per la città. E poi come anticipavo Olimpiadi 2026, impianti per i giochi rincari del 50% per Santa Giulia e Nodo Palasharp. Dunque si parla di ritardi per gli impianti in vista delle Olimpiadi 2026 per i giochi invernali Milano-Cortina e poi proprio di rincari per le spese per la costruzione appunto degli impianti. Sono questi insomma i temi oggi sul tavolo. Ne parleremo tra poco con i cittadini di Lodi. A te la linea per il momento. Grazie Silvia. Torniamo da te tra poco. Andiamo a vedere anche l'apertura del quotidiano economico Il Sole 24 Ore che in questo momento appunto ha in primo piano il conflitto in Ucraina. Zelensky dopo l'esplosione della Diga c'è una chiazza di petrolio verso il Mar Nero. Intanto a Kherson 70 attacchi in 24 ore. Una svolta negativa nella guerra. Quindi anche il quotidiano economico dedica in questo momento l'apertura al conflitto in Ucraina. Invece anche ovviamente poi l'aggiornamento sulla giornata dei mercati. Borsa Europa Debole pesa l'export cinese. Occhio alle banche centrali e poi dalla stretta sulla Corte dei Conti per il PNRR alle nuove regole per i concorsi. Ecco le misure del decreto della pubblica amministrazione verso il via libera della Camera. In primo piano anche l'aggiornamento sulla salute del Santo Padre. Il Papa ricoverato al Gemelli per una laparotomia. L'adegenza durerà diversi giorni. Allora questa è l'apertura anche del Sole 24 ore. Andiamo a vedere invece il Corriere del Ticino che dedica l'apertura a un tema molto sentito ovviamente anche nel territorio lombardo di confine. Si parla di infermieri italiani in Svizzera. La penisola ora pensa a quelli indiani. Lo sfogo del Presidente nazionale del sindacato Nursing Up. La politica non valorizza i nostri professionisti. Intanto Germania, Inghilterra e Svizzera fanno a gara per accaparrarseli. La politica italiana non valorizza i nostri professionisti. Intanto Germania, Inghilterra e Svizzera fanno a gara per accaparrarseli. Si può riassumere così il lungo sfogo di Antonio De Palma, Presidente nazionale di Nursing Up, diffuso in una nota odierna. Il numero uno del sindacato infermieristico denuncia il trattamento dei professionisti sanitari di serie B e afferma che ci stupisce e ci preoccupa non poco la recente proposta del nostro Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che sulla triste lunghezza d'onda di un modus operandi che definire paradossale è un eufemismo e che conosciamo a memoria perché è figlio di una politica che continua a non valorizzare appieno la nostra professione, propone di far arrivare nel nostro sistema sanitario attraverso accordi con paesi extraeuropei infermieri indiani per tamponare la falla della carenza di personale. De Palma prosegue a mancare, sono gli infermieri, lo sappiamo bene, lo dicono report autorevoli e nessuno osi negarlo. Il Ministro si affretta ad affermare che si tratta in questo caso di infermieri extracomunitari che possiedono una preparazione che sarà perfettamente adeguata alle esigenze della nostra sanità. Non abbiamo dubbi che si tratti di professionisti dalle elevate competenze, ma il problema di fondo è un altro, si continua tristemente a ignorarlo. È ormai noto il rischio di esodo da parte degli operatori sanitari della penisola in cerca di stipendi più allettanti all'estero. Il Presidente di Nursing Up sottolinea la nostra realtà infermieristica è capace di formare, nel caso dei nostri operatori sanitari, vere e proprie eccellenze, ambitissime da quelle nazioni del vecchio continente che sono pronte a offrire ai nostri professionisti stipendi adeguati alle loro legittime aspirazioni. La professione infermieristica in Italia dispone di professionisti che Germania, Inghilterra, Svizzera, solo per fare degli esempi, fanno a gara per accaparrarsi e mettere a disposizione dei propri pazienti, offrendo loro stipendi che partono anche da 3.000 euro mensili. E aggiunge, la nostra professione in Italia continua a perdere appilla agli occhi dei giovani che non trovano le condizioni per sentirsi valorizzati come meriterebbero. Basti pensare a uno stipendio che non si avvicina nemmeno lontanamente a quello di Paesi a due passi da noi. I nostri infermieri letteralmente fuggiti all'estero sono oltre 50.000, un dato che testimonia apertamente che non siamo in grado di creare qui da noi le condizioni per trattenere operatori sanitari che paradossalmente finiscono con il mettere a disposizione di altre nazioni le proprie competenze, andando a rendere più forte il sistema sanitario di quei Paesi, mentre il nostro perde letteralmente i pezzi. De Palma critica la proposta del Ministro italiano per una questione di differenze linguistiche tra futuri infermieri e pazienti, come la mettiamo con la difficoltà linguistica che questi professionisti di certo avranno e che certamente non permetteranno l'approccio umano e comunicativo di cui i nostri malati cronici, i nostri anziani, hanno ogni giorno bisogno. Nelle RSA ci sono soggetti che necessitano di un approccio comunicativo costante. La nostra popolazione continua a invecchiare e il fabbisogno di infermieri sarà sempre più legato alle esigenze di questa parte della cittadinanza e a creare strumenti per la tutela della loro salute. I malati cronici, gli anziani, sentono il bisogno di essere ascoltati. Il linguaggio delle parole è l'arma migliore per comprendere al meglio l'evolversi di una malattia e adottare così di conseguenza gli accorgimenti idonei per sconfiggerla o, nella peggiore delle ipotesi, tenerla sotto controllo e fare in modo che non evolga in negativo. E conclude, assurdo e poco comprensibile, che un paese civile e degno di tale nome si lasci scappare dalle mani le proprie eccellenze, cercando altrove le forze per ricostruire la propria sanità, puntando su professionisti stranieri che con le loro carenze linguistiche non saranno in grado, non da subito almeno, di offrire ai nostri pazienti l'approccio di cui hanno bisogno. Quindi questo è un focus anche sull'emergenza, per la mancanza di personale infermieristico in Italia. Torniamo però a dare la linea invece anche a Lodi. Sì, siamo qui con il signor Vittorio, residente di Lodi e milanista. Quindi le chiedo subito, Maldini è stato un addio amaro? Per me sì, molto amaro, perché è da anni che è lì nel Milan ed era una cosa proprio familiare, diciamo, che sono giocatori che non si possono scordare, fra l'altro per quello che hanno fatto per la squadra. Quindi è stato un addio amaro, che cosa secondo lei ha portato a questa separazione? E ha portato il cambiamento di questi tempi che cambiano tutto, cambiano i proprietari, cambiano un po' tutto e purtroppo non è che possono andare d'accordo, perché sono altre mentalità. per me quando arrivano queste multinazionali da altri stati non si può andare davanti a quelli lì. Ecco, come dice, metodi di lavoro diversi, non è stata una separazione consensuale? No, no, è stata una separazione proprio drastica, diciamo. Sono venuti giù con l'aereo, quello che è venuto, ha messo lì e ha detto basta con te, ha preso l'aereo e se n'è andato, basta, è finita lì. Ecco, le sue responsabilità ora saranno affidate a un gruppo di lavoro integrato. Come vede il futuro della squadra? Il futuro della squadra potrebbe essere anche meglio di prima, però non è più come prima secondo me per i milanisti come me. Perché insomma Maldini era un simbolo per la squadra. Maldini è un simbolo, è logico. Io quando è andato via per dire anche Rivera, da altri tempi, ma è sempre stata una cosa brutta per me. Quindi molta amarezza da parte di voi tifosi? Io penso di sì, per tutti. Dopo ci saranno quelli che magari dicono di no, però insomma, certo che dipende sempre dopo dai risultati. Se la squadra va avanti bene, dura tre giorni. Se la squadra invece va avanti male, allora cambia tutto. Grazie, grazie a Vittorio per essere stato con noi. Per il momento a te la linea. E torniamo anche alla cronaca. Lo accennava anche Silvia prima dal Corriere. L'inchiesta sui poliziotti arrestati, le accuse di tortura, le frasi shock di un agente alla fidanzata. È crollato svenuto, che pigna che gli ho dato. Allora andiamo a leggere qualche ulteriore dettaglio. Tutto è partito dalla telefonata di uno degli agenti fermati con la fidanzata. L'ho portato dentro la cella, si vantava l'agente, ho preso lo spray urticante e glielo ho spruzzato tutto sulla faccia. La confessione del primo pestaggio, che per i magistrati inquirenti rientra nel reato di tortura. I suoi colleghi della squadra mobile l'hanno raccolta quasi in diretta dall'agente Alessandro Migliore. 25 anni ancora da compiere, intercettato la sera del 22 agosto scorso. Il poliziotto parla con la fidanzata Nicole e le racconta quello che è successo con un italiano fermato la notte precedente. Ha iniziato a rompere, vi spacco, sbirri di qua e di là, dice Migliore. Allora ha dato una cappocciata al vetro, il collega apre la porta e viene un attimo fuori. Adesso ti faccio vedere io quante cappocciate alla porta. Fai boom, boom, boom e io ridevo come un pazzo. Poi quasi si vanta di essere entrato in azione. Amo, lui stava dentro l'acquario, la stanza dei fermati con una parete a vetro. Gli ho lasciato la porta aperta in modo tale che uscisse, perché io so che c'è la telecamera dentro. Mi guarda, mi ero messo il guanto, ho caricato una stecca. Bam, lui chiude gli occhi di sasso per terra, è andato a finire, è rimasto là, è svenuto. Che pugno che gli ho dato, che pigna che gli ho dato. Nell'atto d'accusa si sostiene che poi Migliore ha instigato un altro poliziotto a tirargli un calcio alla schiena. Dei cinque episodi per i quali si ipotizza la tortura, questo è l'unico contro un italiano. Gli altri sono cittadini stranieri e secondo il giudice i poliziotti indagati contavano sul loro silenzio. Senza calcolare però che i loro telefoni erano finiti sotto controllo nell'ambito di un'altra indagine su una perquisizione di cinque mesi prima fin troppo benevola, praticamente mancata, secondo gli inquirenti, nei confronti di un gruppo di albanesi sospettati di tentato omicidio e detenzione di armi. Parenti del gestore di una discoteca frequentata dal gruppo di poliziotti ballerini che una volta compreso di chi si trattasse si sono fermati. L'ha raccontato l'albanese in un'altra intercettazione. «Io ero sporco in casa, i poliziotti, il giovane Alessandro, io avevo due fucili, un silenziatore e due pistole. Sai cosa ha fatto il poliziotto?» Ha detto «la perquisizione è finita». Negativo. Da lì i controlli su migliore, l'ascolto del primo pestaggio e la decisione dei colleghi guidati dal questore Roberto Massucci, d'accordo con la procura, di non fermarsi a una denuncia nei confronti dell'agente, bensì di aumentare il numero di microspie e telecamere in questura alla ricerca di riscontri su quello ed altri episodi per costruire un'indagine che svelasse l'eventuale marciume in nome della trasparenza, aprendo uno spaccato di altre torture documentate quasi in diretta, come quella nei confronti di un romeno fermato e accompagnato in questura il 14 ottobre, addebitata a Migliore e a un altro poliziotto. È sempre il giovane a raccontare alla fidanzata l'indomani. «Ha iniziato a sbroccare, vabbè, gli abbiamo tirato due o tre schiaffi a testa, ma così, giusto per? Allora si è buttato a terra, gli stavo per dare un calcio, poi però l'ho messo in piedi, ho fatto sinistro-destro, il collega fa «No, grande Ale, si è spento, l'ho portato dentro la cella, ho preso lo spray, glielo ho spruzzato tutto sulla faccia». Per i magistrati l'uso dello spray urticante anche su soggetti ridotti all'impotenza e dunque contro le regole è indicativo della volontà di infliggere ulteriore gratuita sofferenza a un soggetto già percosso con violenza, così come gli insulti con parole di discriminazione razziale nei confronti degli stranieri sono il sintomo di un pessimo comportamento inutilmente aggressivo e violento. Riassunto nei capi d'accusa che descrivono a proposito di un altro episodio il particolare di un fermato spinto nella direzione di una stanza dove aveva urinato e premuto al suolo, bagnato di fatto, impiegando la sua persona come uno straccio per pulire il pavimento. In attesa di ascoltare le versioni definitive, nel catalogo delle accuse rientrano anche le percosse nei confronti di un tunisino che il 21 ottobre era finito a terra per i calci ricevuti e si è sentito urinare addosso da un poliziotto che diceva «Io so come svegliarlo». L'uomo ha raccontato di essere stato picchiato e umiliato in un tunnel della Questura di cui ancora una volta hanno parlato gli agenti inquisiti e intercettati un mese più tardi. La notte del 17 novembre un assistente capo che non figura tra i cinque arrestati parlando con un collega non identificato avverte «Volevo dirti, e questo vale per tutti, evitate di alzare le mani nell'acquario perché non si sa per quale motivo sono andati a vedere le registrazioni, magari questi iniziano a controllare, quindi se dovete dare qualche schiaffo nei corridoi un altro interviene. Abbiamo sempre fatto nel tunnel». In realtà la settimana precedente erano state registrate le immagini e gli audio di un'altra aggressione di un cittadino africano che stava dando in escandescenze affrontato da due agenti, da due degli arrestati. L'assistente capo Roberto Darold che lo spinge dentro facendogli sbattere la parte posteriore della testa sulla panca in cemento e l'ispettore Filippo Faillar Rifici che dopo essere stato ripetutamente toccato dal fermato nonostante le intimazioni a non farlo gli dà uno schiaffo al volto per poi buttarlo a terra dove lo colpisce con degli schiaffi. Allora questi negli sviluppi anche della vicenda di Cronaca che arriva da Verona e lo ricordiamo i poliziotti cinque poliziotti che sono stati arrestati anche con l'accusa di tortura i veterani delle volanti e la telefonatella finanzata piena di orgoglio pieni di orgoglio poi parla una delle vittime degli agenti arrestati pugni e manganellate costretto a pulire l'urina con il viso nel mirino finivano senza tetto i migranti i loro racconti Nicolai Nicole sono svenuto ancora non so perché lo facessero allora queste le parole anche sull'indagine di Verona che coinvolge appunto alcuni poliziotti della costura cittadina ma noi ci troviamo un attimo per la pubblicità torniamo tra poco bentornati a TG più today allora prima di continuare con le notizie della mattinata andiamo a vedere anche qual è la situazione delle strade in Lombardia con la nostra rubrica in collaborazione con Anas Una segnalazione in questo momento andiamo sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga corsia chiusa per la pulizia del manto stradale dopo l'incrocio di Seregno e prima dell'incrocio di Caratebrianza in direzione dell'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera questo al momento è l'unico aggiornamento ma è sempre possibile consultare il sito www.stradeanas.it oppure chiamare il numero verde gratuito pronto Anas 800 841 148 e allora tra poco andremo anche da un ospite e siamo in attesa anche naturalmente di ricollegarci anche con Lodi andiamo però a vedere anche quali sono altre notizie questa mattina in primo piano dall'ANSA andiamo a vedere le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella le risorse del PNRR per uno sviluppo solido e omogeneo fondamentale il contributo di ogni componente del sistema economico e istituzionale dice il capo dello Stato in un messaggio all'Assemblea di Confcommercio il contributo di ogni componente del sistema economico e istituzionale per il rilancio delle aree che versano in condizioni di difficoltà è oggi più che mai in luce lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio all'Assemblea della Confcommercio si tratta di una collaborazione resa ancora più efficace con l'utilizzo delle risorse del piano Next Generation per dare vita a uno sviluppo solido e omogeneo nel territorio nazionale il ruolo delle formazioni sociali delle associazioni degli operatori professionali è essenziale per questi obiettivi ed esprimo la gratitudine della Repubblica per l'operato svolto e allora queste le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella ma torniamo ancora a Lodi Sì Anna siamo qui con Pinuccia e Tina siamo qui in Piazza Vittoria a Lodi parliamo di violenza sulle donne dopo l'ennesimo femminicidio aumento delle pene per i recidivi leggiamo sul Corriere della Sera applicazione automatica del braccialetto elettronico distanza minima di 500 metri in caso di divieto ad avvicinarsi alla vittima sono queste alcune delle misure contenute nella bozza del disegno di legge che sarà oggi all'esame del Consiglio dei Ministri per dare una stretta alle norme contro la violenza sulle donne e nel testo si prevedono anche la creazione di un pool di magistrati dedicato alla materia e processi più veloci cosa ne pensate? È giusto è giusto le pene dovrebbero essere più severi e in questi casi io metterei in galera nessun sconto di pena e in galera per tutta la vita un ergasto la vita Ecco un'escalation di femminicidi questo dipende molto secondo me dall'educazione dei maschi dei ragazzi dovrebbero partire dalle scuole l'educazione verso l'altro sesso e nelle famiglie soprattutto Ecco lei mi ha detto prima proprio nel vedere i rapporti tra ragazzi e ragazze fin da giovani insomma ci si preoccupa ci si preoccupa molto a monte c'è proprio il fallimento di noi come genitori come nonni come scuola di educatori quindi è mancato qualcosa nell'educazione perché partendo dagli anni 60 dove mi sembra che sia negli anni 60 che è stata tolta il delitto è stato tolto il delitto d'onore oggi perché siamo ancora a questo punto quindi è mancato qualcosa e soprattutto e noi forse c'è da fare un mea colpa anche su questo e poi una giustizia che nel momento che si dà una pena la pena deve essere certa non ci devono essere sconti per queste persone Ecco appunto si parla di una stretta sulle misure contro la violenza sulle donne cosa non funziona secondo lei cosa si può fare di più è proprio la certezza della pena cioè se io ti do un ergastolo l'ergastolo lo devi fare non ci sono sconti non puoi uscire non puoi non puoi deviare da quello che è la tua pena cioè non non ci possono essere sconti perché è assurdo perché poi uno che fa che compie un delitto del genere poi vive la persona con cui tu hai tolto la vita non vive più ma non vive la famiglia non vivono i suoi cari in questo caso non vive una donna con il suo bambino quindi non c'è molto da inasprire c'è solo penso che le regole ci siano già vanno solo applicate bene e la magistratura dovrebbe fare questo e anche la consapevolezza da parte delle donne che subiscono continue violenze di voler denunciare insomma sì assolutamente sì anche se in tanti casi abbiamo visto che anche se hanno denunciato poi non è servito niente non lo so cosa si potrebbe fare di più secondo me educare anche le donne a accogliere i primi sintomi di malessere del compagno o di qualcosa che non va nel compagno per allontanarlo per allontanarsi non lo so perché veramente è impossibile sentire che tutti i giorni o quasi una donna viene uccisa dal suo compagno 47 dall'inizio dell'anno 47 donne siamo i primi di giugno quindi la media è veramente molto molto alta grazie grazie per essere state con noi per la vostra testimonianza Anna Tellalinea grazie io vado invece subito a dare il benvenuto al nostro ospite di questa mattina Mauro Delbarba buongiorno buongiorno a lei telespettatori deputato di Italia Viva le voglio chiedere ovviamente delle misure del decreto pubblico amministrazione però visto che se ne parlava anche in collegamento le volevo chiedere una battuta su queste ipotesi ancora una volta di andare a inasprire le pene per i femminicidi o comunque andare a intervenire anche sulle condanne sui colpevoli c'è invece qualcos'altro secondo voi su cui bisogna andare a lavorare? guardi sono in Parlamento da dieci anni e siamo intervenuti più volte anche sull'inasprimento delle pene soprattutto su misure preventive che molto spesso hanno funzionato ciò nonostante il fenomeno non sembra minimamente attenuarsi significa che è un problema culturale che come dicevano anche le signore intervistate riguarda soprattutto il genere maschile ma io credo che riguardi un pochino tutte le nuove generazioni nella loro capacità di leggere i sentimenti e di saperli interpretare di saper impostare delle relazioni che probabilmente anche i nuovi strumenti distorcono non siamo più abituati insomma alla relazione con l'altro autentica anche se nel caso dei femicidi naturalmente c'è una lunga storia millenaria di patriarcato che va sradicata e ci vorrà del tempo Allora vado ora anche al decreto pubblica amministrazione si parla di stretta sulla corte dei conti per il PNRR si parla di nuove regole per i concorsi pubblici quali sono i dubbi quali sono le critiche quali invece eventuali aspetti da promuovere ma guardi dal nostro punto di vista ancora una volta su un provvedimento nel quale potremmo discutere nel merito si sceglie di alzare le bandiere sia da parte del governo sia da parte delle altre opposizioni perché diventa più facile il dibattito politico facciamo l'esempio dei controlli concomitanti della corte dei conti non ci sarebbe nulla di male di strano nel riconoscere che per i progetti del PNRR le regole possono essere cambiate ai fini di rendere più spedito il PNRR stesso fermo restando il fatto che bisogna garantire i controlli ex post e ci mancherebbe altro ebbene il governo da una parte introduce questa norma ma dall'altra poi in commissione non ne sa spiegare la razio e quindi sembra quasi che la usi più come bandiera per un proprio elettorato come una sorta di bandiera di superamento di vincoli nella pubblica amministrazione grazie al fatto che ci sono loro e anche come foglia di fico perché è l'ennesima foglia di fico sull'incapacità di questa maggioranza di portare a casa i progetti del PNRR dall'altra parte noi critichiamo anche l'atteggiamento delle altre opposizioni che immediatamente a provocazione rispondono con provocazione quindi alzano in maniera altrettanto veloce la bandiera della giustizia della legalità come se fosse in gioco appunto la legalità nelle opere pubbliche insomma non è così ci parrebbe che se i due estremi rinunciassero a questa polarizzazione del dibattito ne trarrebbe giovamento il merito e anche il paese noi ci proviamo noi proviamo senza stancarci a portare questo tipo di stile ma ci rendiamo conto che è molto più difficile è molto più facile dibattere rispetto ai massimi sistemi Sul PNRR a che punto siamo e secondo voi a questo punto c'è qualcosa ancora che si può fare o tutto sommato è meglio lasciare comunque andare le cose come erano state impostate Ma noi fin dall'inizio abbiamo messo in guardia la maggioranza che voleva cambiare il PNRR rispetto al fatto che si stavano avventurando in un percorso rischioso di non ritorno perché se fosse fallito quel tentativo di cambiarlo avrebbero procurato un gran danno al paese hanno voluto comunque andare su quella strada gli abbiamo detto va bene allora se lo cambiate in modo virtuoso fino a quando non portate a casa il risultato noi sospendiamo il giudizio sta di fatto che la sensazione è che questo governo avendo anche cambiato la governance del PNRR ci stia mettendo nei pasticci al di là dei proclami i dati sono inesorabili e parlano di avanzamenti molto scarsi sia da parte degli enti locali ma anche da parte dei ministeri come Parlamento stiamo aspettando la relazione di avanzamento del PNRR perché almeno si potrà finalmente parlare sui dati e non ancora una volta sui proclami il PNRR è fondamentale per il nostro paese quindi noi sebbene si sia l'opposizione faremo di tutto perché venga realizzato venga realizzato fino in fondo vengano privilegiate le opere che costituiscono investimenti e che sono produttive certamente saremo implacabili nel condannare l'incapacità di questo governo laddove come ci sembra fin dal principio dovessero trascinarci in un fallimento che pagheremmo molto caro e che pagherebbero care le prossime generazioni Volevo fare un'ultima domanda ancora l'ultima missione internazionale della Premier Giorgia Meloni nelle scorse ore di nuovo sul tema migranti cosa bisognerebbe fare ci aspettano comunque mesi in cui il clima potrebbe naturalmente favorire ancora ulteriori arrivi cosa si dovrebbe fare concretamente al di là di quello che è il dibattito politico bisogna fare degli accordi bilaterali con i paesi di provenienza e da questo punto di vista non c'è nulla di strano in quello che sta tentando la Premier Meloni il problema è che bisogna essere credibili e capaci per farli e soprattutto saremmo molto più forti se riuscissimo a farli come Europa e quindi come accordo tra Europa e paesi di provenienza quando così è avvenuto vedi caso Turchia gli accordi sono stati molto efficaci è chiaro che ancora una volta questo governo paga la sua provenienza il fatto che per anni non ha mantenuto buone relazioni con l'Europa il fatto che per anni sul tema dell'immigrazione ha fatto pura demagogia ora che sta provando a fare il lavoro giusto che è completamente diverso da quello che ha sempre proclamato è in ritardo quindi buon lavoro alla Premier Meloni ma ancora una volta c'è la differenza tra il governare e gli escamotage con cui sono giunti al governo è tutta lì sul tavolo staremo a vedere se sarà in grado di recuperarla oppure se semplicemente il governo Meloni e questo governo di centrodestra servirà anche nel loro caso per mettere in evidenza le loro mancanze le loro pochezze allora io ringrazio Mauro Del Barba buongiorno buona giornata grazie per essere stato con noi e buon lavoro grazie a voi buona giornata a tutti e torniamo anche a quelli che sono nelle notizie del Corriere volevo anche leggervi una notizia una vicenda emblematica comunque un'intervista che va ad approfondire il tema delle persone che hanno perso il lavoro delle persone che fanno fatica a trovare una nuova collocazione in questo caso si parla di una donna 50enne che dice guadagnavo 10.000 euro al mese ora per vivere chiedo aiuto a Emergency andiamo a vedere qualche dettaglio appunto dell'intervista la storia di una delle 5.000 persone che si sono rivolte al progetto nessuno escluso 7 su 10 sono donne durante la pandemia ho perso tutti i clienti e non li ho recuperati pagavo 1.500 euro di affitto ora vivo in una casa popolare non posso arrivare alla pensione solo con i miei risparmi sono oltre 5.000 le persone in difficoltà che si sono rivolte a nessuno escluso progetto di Emergency nato un anno fa che grazie a postazioni mobili raggiunge alcune delle zone più disagiate della città in seguito alla pandemia nel capoluogo Lombardo è cresciuta la povertà anche tra gli italiani che adesso sono primi per numero a chiedere aiuti quasi il 30% mentre 7 utenti su 10 sono donne italiane e straniere la maggior parte fa richiesta per il pacco alimentare ma c'è anche chi cerca un supporto per avere una casa per regolarizzare i documenti o trovare un lavoro stabile come Anna nome di fantasia 51enne milanese con una laurea in filosofia in tasca che nel giro di pochi anni è passata da una vita agiata ad avere una spada di Damocle sulla testa fino a qualche tempo fa non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione del genere e invece sono titolare di un'agenzia che si occupa di comunicazione ufficio stampa nel settore medico il lavoro non è mai mancato andava bene dieci anni fa potevo anche arrivare a guadagnare diecimila euro al mese adesso seicento a causa della pandemia ho perso tutti i clienti tranne uno e anche dopo che è finita l'emergenza non li ho più recuperati prima avevo anche quattro dipendenti ho dovuto lasciarli a casa mi sono imbattuta nel progetto nessuno escluso per caso uscendo di casa qui a Giambellino prima del covid abitavo in affitto in corso 27 marzo potevo permettermi 1500 euro di locazione al mese poi quando ho perso il lavoro mi sono trasferita a vivere da mia mamma invalida in una casa popolare in via Odazio qui ci sono tante persone per bene ma anche tanti abusivi soprattutto rom sporcizia scippi e degrado sono all'ordine del giorno e appunto nel frattempo è scomparsa sua madre sì mi è venuto a mancare l'unico appoggio che avevo non ho genitori né marito né figlio fratelli il mio nucleo familiare sono io non mi sono vergognata a domandare aiuto tra l'altro non ho mai chiesto i pacchi alimentari la spesa la pago da sola così come affitto e bollette agli operatori a trovare un lavoro mi hanno aiutato a diffondere il curriculum a inviarlo a chi potrebbe essere interessato a un profilo professionale come il mio ne avrò già mandati 200 ma non mi ha risposto nessuno ma lei sarebbe disposta a cambiare lavoro sì assolutamente sono disponibile anche a fare la cameriera o la commessa qualsiasi cosa purché con un contratto regolare e dignitoso e non precario le aziende preferiscono comunque assumere i giovani anche perché così possono avere degli sgravi fiscali quindi se una persona della mia età si trova senza lavoro è completamente fuori dai giochi di cosa vive per fortuna ho messo via un po' di soldi attingo da lì ma non posso pensare di arrivare all'età della pensione solo con i miei risparmi non ha diritto a sussidi non rientra nei parametri vivevo nel comfort potevo permettermi anche piccoli lussi andare nei ristoranti e fare shopping adesso sto vendendo borse gioielli per avere liquidità cosa chiede di poter lavorare e attirare l'attenzione delle istituzioni sul fatto che il problema del lavoro non riguarda solo i giovani ma anche le persone di una certa età che si trovano improvvisamente senza e non riescono a ricollocarsi conosco tante donne nella mia stessa situazione purtroppo allora questa è anche un'intervista un caso emblematico di una situazione che si è venuta a creare anche in una città come Milano cambiamo invece l'argomento perché andiamo a vedere anche appunto una notizia completamente diversa si parla di tecnologia e il Corriere pubblica un servizio abbiamo indossato e usato Vision Pro l'innovativo visore di Apple si può essere davvero l'erede dell'iPhone Apple Vision Pro abbiamo indossato e usato il visore si può essere davvero l'erede dell'iPhone in area riservata dell'Apple Park abbiamo provato in anteprima gli innovativi occhiali di Apple lanciati appunto quest'anno mezz'ora tra i dinosauri 3D e foto che prendono vita questi anche gli aggiornamenti invece le curiosità sul tema più della tecnologia in apertura lo vediamo invece resta sempre la notizia di Papa Francesco ricoverato al gemelli previsto nelle prossime ore un intervento chirurgico andiamo invece a parlare anche di risparmio e di economia con le notizie sul BTP valore appena lanciato ma prima invece andiamo a restituire la linea a Lodi si siamo qui con il signor Gaetano residente qui a Lodi parliamo di sport lei mi ha detto non è milanista è juventino però insomma Maldini unisce tutti i tifosi nel senso che è un personaggio che ha segnato la storia dello sport italiano Sì Maldini lui ha dato tanto allo sport italiano al Milan ma non solo al Milan ma anche all'Italia allo sport al calcio in generale lui suo padre insomma ritengo comunque un professionista una persona seria una bella persona insomma lo dico da juventino insomma e vengono a mancare sempre queste persone qua persone l'immagine di bandiere insomma chi ama il calcio ama queste persone cioè vuole queste persone che adesso il calcio è cambiato e vengono a mancare queste persone qua quindi un addio amaro per tanti tifosi sì sicuramente certamente lo dico sempre da juventino però è un addio amaro sì per il calcio lei ha detto lo sport è cambiato il calcio è cambiato ma sì lo sport non è più una volta era volta passione passione adesso è cambiato non c'è più non ci sono più le bandiere non ci sono più una volta il calcio era fatto anche di bandiere adesso che bandiere ci sono cioè non vengono a mancare un po' tutto cioè almeno io che ho una certa età vedo che ha cambiato insomma dopo dire nel bene o nel male non saprei preferivo il calcio di una volta ecco io personalmente dopo per amor di dio e come sarà secondo lei il Milan senza Maldini ma guardi io non non sto seguendo ultimamente bene il calcio ma il Milan di Maldini con Maldini l'ho detto aveva una certa così una certa immagine adesso boh non lo so è business vanno i fondi boh che decidono loro sono sono fanno profitti loro è diverso una volta era passione era gestita da famiglie da Moratti da 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 Agnelli adesso forse è rimasto solo Agnelli che è l'unica famiglia che gestisce una squadra italiana dopo vanno tutti i fondi è così grazie grazie per il suo commento grazie per essere stato con noi a te la linea e noi torniamo invece anche a un'altra notizia di cronaca assolto lo psicoterapeuta Claudio Foti muore la leggenda di Bibiano a fidi illeciti cade la condanna a quattro anni ha vinto la giustizia una vicenda che ha fatto molto discutere assolto da tutte le accuse ed è una sentenza di appello che può ribaltare tutto Claudio Foti lo psicoterapeuta imputato nel processo Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti nella valdenza reggiana si commuove hanno vinto la verità e la giustizia dopo quattro anni di gogna ho pianto perché si è inclinato il teorema accusatorio dice uscendo dalla corte bolognese quando ormai è sera e può finalmente sciogliere la tensione accumulata durante una lunga udienza di repliche e un'altrettanto lunga camera di consiglio che alla fine ha cancellato i quattro anni fitti inflitti a Reggio Emilia in primo grado felice emozionato Rinato questa soluzione mi restituisce alla dignità e all'onore che merito non ho mai fatto del male ai miei pazienti li ho sempre aiutati mettendo a disposizione tutto il mio tempo e il mio sapere aggiunto in una dichiarazione diffusa in serata assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di aver provocato lesioni volontarie psicologiche a una giovane paziente per non aver commesso il fatto dal reato di abuso d'ufficio e conferma della soluzione del gruppo e della frode processuale vittoria completa per la difesa Foti è stato riscattato di quattro anni di umiliazione e persecuzioni come uomo e come psicoterapeuta commenta il suo avvocato Luca Bauccio la procura generale con il procuratore reggente Lucia Musti spiega che si leggeranno le motivazioni e all'esito si valuterà se sussi sono spazi per un ricorso in Cassazione la sentenza arriva mentre è in corso il processo a Reggio Emilia per altri 17 imputati quelli che diversamente dal fondatore della ONLUS piemontese Ansele Grete l'hanno scelto il rito ordinario e non l'abbreviato ma può essere significativa perché l'abuso d'ufficio contestato a Foti è stato commesso in ipotesi di accusa in concorso con il sindaco di Bibiano Andrea Carletti in relazione all'affidamento senza gara alla sua associazione del servizio di psicoterapia nell'Unione Valdenza le lesioni invece riguardavano i danni psicologici subiti sempre per l'accusa da una giovanissima paziente ansia, depressione e altri disturbi provocati dalle sedute a cui aveva partecipato Foti in particolare era accusato di aver ingenerato in lei il convincimento di aver subito abusi sessuali dal padre e di averla sottoposta alla tecnica della EMDR la discussa macchina dei ricordi in totale violazione dei protocolli di riferimento fu proprio questo uno degli episodi di cui si parlò di più quando deflagrò l'inchiesta nell'estate del 2019 con le misure cautelari eseguite dai carabinieri abbattendosi sull'Emilia e diventando una delle indagini più citate negli ultimi anni dalla politica che si divise e la strumentalizzò Angeli Damon incendiò la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna inizio 2020 quando Bibiano il paese del sindaco Carletti esponente del PD divenne luogo di contesa e di comizi finì su magliette indossate in Parlamento suscitò polemiche continue al centro un presunto business illecito legato al mondo degli affidi ma su cui ancora i giudici devono in gran parte esprimersi questa vicenda ha detto l'avvocato Bauccio è stata utilizzata per una campagna strumentale da parte di politici profondamente in mala fede con oggi muore la leggenda di Bibiano e rinasce la verità di una comunità di professionisti che hanno voluto perseguire solo la protezione del minore questi allora gli sviluppi di una notizia che come leggevamo anche proprio dal resoconto dell'Ansa ha fatto notevolmente discutere anche proprio a livello politico ed è stata utilizzata anche a livello politico e in campagne elettorali gli ultimissimi sviluppi però che sentevamo prima anche in collegamento da Silvia sul tema invece sull'omicidio di Giulia Veleno Pertopi a casa di Impagnatiello aveva cercato su internet come usarlo avrebbe premeditato l'omicidio i rilievi a casa di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano a Senago non è vero che ha deciso di uccidere Giulia sabato sera quando se l'è trovata davanti a rientro dall'incontro verità con l'amante e lei gli ha chiesto conto delle sue menzogne come ha messo a verbale di fronte al GIP c'è il forte sospetto negli investigatori che Alessandro Impagnatiello abbia premeditato l'omicidio l'omicidio della compagna Giulia addirittura un paio di settimane prima quando ha cercato su internet gli effetti che fa il veleno per topi sugli esseri umani ed in casa è stata sequestrata proprio una confezione di veleno per topi è la carta nelle mani dei magistrati per insistere sull'aggravante della premeditazione del delitto dopo che il GIP l'ha esclusa nella convalida del fermo e questo è un nuovo sconcertante elemento che emerge dalle ultime indagini dei carabinieri del nucleo investigativo coordinati dai PM Alessia Venegazzo e Letizia Mannella che stanno verificando anche se qualcuno ha ricevuto le confidenze del killer dopo l'omicidio e allora questi gli ultimissimi aggiornamenti anche di cronaca noi siamo arrivati al termine torno a Lodi per i saluti Siana qui oggi in piazza Lodi abbiamo intercettato diversi cittadini abbiamo parlato insomma di temi davvero svariati dallo sport fino alle norme alla stretta sulle misure contro la violenza sulle donne ho intercettato anche adesso altri tifosi che però insomma non hanno voluto presentarsi davanti alle telecamere dunque per oggi da Lodi è tutto ti restituisco la linea grazie Silvia noi ricordiamo ancora la notizia in apertura in questi minuti un po' su tutti gli organi di informazione il Papa ricoverato al gemelli nelle prossime ore sarà operato all'addome continueremo ad informarvi naturalmente a partire dal nostro telegiornale con l'edizione delle 12.30 ETG più Today invece termina qui l'appuntamento è per domani mattina alle 10.30 grazie per averci seguito e buona giornata Grazie a tutti